Continua la preparazione in vista della festa di San Gerardo ed in particolare della storica parata dei turchi in programma per il 29 maggio. Fino a sabato c'è tempo per i bambini di età compresa tra i 7 e gli 8 anni di partecipare all'estrazione per salire sulla nave di San Gerardo. L'associazione La Nave del Santo infatti ha posto all'interno di Palazzo Città del Comune di Potenza una miniatura della nave del Santo nella quale è possibile imbucare la propria candidatura per salire sulla nave. Sabato 18 maggio al termine delle candidature quindi a partire dalle 18 e 30 avverrà l'estrazione per i 4 personaggi che saliranno sulla nave il 29 maggio San Gerardo Bambino, il suonatore di Campanella e le due Clarisse di San Luca. Tempo fino a sabato alle 18 per partecipare al contesto.